C'è una novità ed è parecchio rilevante. Quest'anno, a differenza delle passate stagioni, la finale regionale di Coppa Italia Direttanti raddoppia. Si giocherà non più in gara unica, infatti, ma sulla distanza dei 180 minuti con partite di andata e ritorno. La prima, tra Corato e Casarano, andrà in scena al Degli Ulivi di Andria domani alle ore 18.30. Gli spalti del Comunale Coratino sono inagibili e non possono ospitare i tifosi. Quella decisiva, invece, è fissata per giovedì 14 febbraio al Capozza. Corato contro Casarano, dunque. La Puglia si appresta a scegliere la vincitrice del titolo regionale e la sua portacolori per il segmento nazionale, quello che poi metterà in palio anche una promozione in Serie D attraverso la porta principale. La nostra rappresentante sarà inserita inizialmente in un triangolare che comprenderà anche il Grumentum Baldagri, che si è giudicato il titolo Lucano, e la vincente della Coppa Campana. I favori del pronostico, inutile negarlo, pendono dalla parte di Salentini, primi in classifica nel campionato di eccellenza dopo cinque turni al giro in ritorno, con un buonissimo margine di vantaggio sulle antagoniste. Più sei sul Brindisi, più dieci sul Barletta. I nero-verdi, a differenza delle ambizioni della scorsa estate, stanno lottando invece per confermare la categoria per colpa di un cammino travagliato. Le difficoltà di fine 2018, in ogni caso, sembrano superate. Il Corato, infatti, è in serie positiva da quattro turni e ha evidenziato anche progressi incoraggiati sul piano del gioco. Ieri, inoltre, ha perfezionato l'ingaggio dell'esperto centrocampista Nicola Della Penna, già a disposizione di Vito Castelletti, proprio per la finale d'andata di domani. Nero-verdi e rosso-blu, intanto, si affronteranno ben tre volte nell'arco di due settimane, oltre alle due gare di Coppa Italia dilettanti. Infatti, prima di quella di ritorno, ci sarà anche il testa-testa di eccellenza, programmato al Capozza per domenica 10 febbraio. All'andata, sempre in campionato, era il 21 ottobre. Ha Corato fini con un pilotecnico 3-3 e con tantissime emozioni. Lo spettacolo garantiscono gli addetti ai lavori e assicurato anche per le finali di Coppa.